Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo dello sport legato al canto. Lo sport è un argomento molto discusso legato alla disciplina del canto. C'è chi dice che devi fare assolutamente sport, 20 minuti al giorno di tapirula eccetera per cantare al meglio. In realtà io credo che non ci sia bisogno di un genio per capire che tantissimi artisti, tantissimi cantanti non sono proprio in questa grande forma. Lo sport fa bene a tutti e a prescindere. Ovviamente se tu canti in una rock band e devi correre sul palco, io ti consiglio di allenarti. O se devi ballare e cantare come Beyoncé, Michael Jackson, è chiaro che hai bisogno di allenarti anche tanto. Certo, stare in forma è un benessere e comunque fa bene a tutti, ma non credete a chi vi dice no, se non fai sport non puoi cantare perché questo non è assolutamente vero. Ovviamente io ti consiglio di fare sport e così in questo modo avrai anche più fiato a disposizione e potrai gestire meglio la voce. Però poi ognuno di noi è libero di fare quello che gli pare e piace. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.